Salve amici e amiche bentornate nel mio canale nuvoli di lana. Oggi vorrei proporvi questo semplice scialle a v a triangolo che è lavorato con dei punti puff che formano una fiorellino o una farfallina, definitela come volete. È un lavoro molto semplice, non è complicato, ho piacere di mostrarvelo e spero di farvi cosa gradita. È simile a quasi altri lavori fatti del genere ma sì è il punto che fa la differenza. Ve lo faccio notare anche da vicino così potete vedere e notare voi stessi come è grazioso. Questo è come si presenta davanti e questo è come si presenta nel retro. Questo logicamente è un semplice campione e voi potete usare tutti i filati che desiderate e colori che vi piacciono di più. Io ho usato un filato di lana misto acrilico quindi se avete piacere passerei al tutorial sperando di farvi cosa gradita. Come mio solito fare parto già da una base dove ho lavorato dentro un cerchio di 6 catenelle 3-4 gruppi alti 4 gruppi di 3 punti alti chiusi insieme a fogliolina. Dopodiché entro direttamente dentro l'archetto col punto ecclissato e lavoro nuovamente 3 punti alti che chiudo insieme, 2 catenelle di separazione e nuovamente 3 punti alti che chiudo insieme. E questo è il punto che seguirà la base del nostro bordo margine. 1, 2, 3 catenelle e qui al centro dell'archetto un punto alto. 1, 2, 3 catenelle qui nell'altro archetto nuovamente lavoro 3 punti alti che li chiudo insieme. 2 catenelle di separazione sempre dentro lo stesso archetto 3 punti alti che chiudo insieme così. Come potete notare è venuto un lavoro molto semplice. Rientro dentro l'archetto direttamente col punto 0 o punto ecclissato 3 catenelle e 2 punti alti che lavoro e chiudo insieme. 2 catenelle di separazione e nuovamente 3 punti alti che chiudo insieme. A fogliolina, a gemma, 1, 2, 3 catenelle. Qui nel punto alto sottostante centrale che ho lavorato prima lavoro un archetto a V. Un punto alto, 3 catenelle, un punto alto nella stessa base. Eccolo qua. Poi 1, 2, 3 catenelle e raggiungo nuovamente l'archetto del bordo margine, l'altro, quello laterale, dove lavoro nuovamente 3 punti alti chiusi insieme, 2 catenelle, 3 punti alti chiusi insieme a forma di fogliolina, di gemma, come voi volete definirla. Rigiro il mio lavoro, entro dentro l'archetto e mi ripeto. 3 catenelle, 2 punti alti. Le 3 catenelle logicamente sostituiscono il primo punto alto. Quindi insieme fanno 3 chiusi insieme, 2 catenelle, e altri 3 punti alti. 1, 2 e 3. 1, 2, 3 catenelle. Badate qua ho, prima di raggiungere l'archetto, un altro spazio che utilizzerò per fare un punto alto. Poi 1, 2, 3 catenelle e al centro di questo archetto faccio un altro punto alto. Però badate bene, mi rigiro e lavoro dal retro e utilizzo la base di questo archetto. La utilizzo per fare come delle gettate di un punto puff. Io ne faccio un paio, voi regolatevi in base al vostro filato. Dopodiché, tenendole sull'uncinetto, le chiudo a 2 a 2. Arrivo al centro, rigiro il mio lavoro, sempre dentro lo stesso archetto e la stessa base, faccio le altre 3 tanto gettate, che poi chiudo a 2 a 2, così, come ho fatto nella prima metà. Diciamo così, prima metà e seconda metà. raggiungo il centro, il vertice di questo fiorellino. Da qui riparto 1, 2, 3 catenelle e nell'archetto sottostante un punto alto. 1, 2, 3 catenelle e raggiungo poi l'archetto del bordo margine, dove lavoro 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti. 1, 2 e 3. chiuso insieme. Rigiro il mio lavoro, rientro dentro l'archetto, direttamente 3 catenelle, 2 punti alti, chiudo insieme. 2 catenelle di separazione, dentro lo stesso archetto, 3 punti alti che lavoro e chiudo insieme, così. 1, 2, 3 catenelle, sul punto alto sottostante, faccio un archetto a V. 1 punto alto, 3 catenelle, 1 punto alto nella stessa base. 1, 2, 3 catenelle, qui al vertice del nostro fiorellino al centro, 1 punto basso, 1, 2, 3 catenelle, qui nel punto alto a fianco, un altro archetto a V. 1, 2, 3 catenelle, un punto alto e un altro punto alto nella stessa base. Eccolo qui. 1, 2, 3 catenelle, raggiungo il bordo margine, dove lavoro, 3 punti alti chiusi insieme. 2 catenelle e di nuovo 3 punti alti, 1, 2, che lavoro, ma chiudo insieme. Questo è il lavoro che abbiamo ottenuto. Come notate qui ho già fatto una farfallina, ma qui nel secondo giro ho elaborato già un archetto a V e un altro archetto a V per fare gli aumenti. Si va di seguito avanti così. Rigiro il mio lavoro, entro dentro l'archetto col punto 0 e ripeto il mio modulo del punto a bordo margine. Semplice, semplice. E' anche grazioso il lavoro che viene svolto. 1, 2, 3 catenelle e raggiungo qua l'archetto centrale, dove farò un punto alto al centro. Lo divido come a metà, diciamo così. Poi mi rigiro e lavoro sul retro dal davanti col filo sull'uncinetto, faccio le mie gettate utilizzando la base nella prima metà di questo piccolo archetto. Faccio le gettate e le chiudo a due a due. 1, 2 e 3. Ritorno sul davanti, sempre sulla stessa base, come potete notare, faccio le altre mie gettate. Voi, in base al vostro filato, regolatevi. Poi le chiudo così, a due a due. 1, 2, 3, 4 e 5. Ho realizzato un altro fiorellino così. Av, un fiorellino, una farfallina, come voi volete definire. Scusate la voce. 1, 2, 3 catenelle, un punto basso al vertice del fiorellino sottostante. 1, 2, 3 catenelle e un punto alto al centro dell'altro archetto. Dopodiché rigiro il mio lavoro, me lo porto così davanti e faccio nuovamente le gettate sulla metà della base di questo archetto. Perché poi utilizzerò l'altra. Una volta che le ho sull'uncinetto, le chiudo a due a due. Così. Poi riporto il lavoro sul davanti, utilizzo il resto della base, quest'altra parte, quest'altra metà. Faccio nuovamente le mie gettate e le chiudo a due a due. Ecco qui. Ho realizzato il secondo aumento in questo modo. Quindi faccio di nuovo 1, 2, 3 catenelle e raggiungo l'archetto del bordo margine. Dove lavoro 3 punti alti che chiudo insieme, 2 catenelle, 3 punti alti che chiudo insieme, 2 catenelle, scusate non 3. E' fatto il bordo margine. Quindi, come potete notare, io da un fiorellino qui centrale ho fatto l'aumento di 2 e adesso faremo l'aumento di 3. E andiamo avanti di seguito così. Entro dentro l'archetto col punto eclissato, 3 catenelle e 2 punti alti che lavoro e chiudo insieme. 2 catenelle di separazione e nuovamente 3 punti alti che lavoro e chiudo insieme, così. 1, 2, 3 catenelle qui in questo arco sottostante faccio un punto alto. 1, 2, 3 catenelle qui al centro del fiorellino un punto basso 1, 2, 3 catenelle qui dove avevo già fatto il punto basso faccio un altro punto alto. 1, 2, 3 catenelle qui nell'archetto laterale un punto alto 1, 2, 3 catenelle e raggiungo l'archetto laterale. 3 punti alti che lavoro e chiudo insieme, 2 catenelle, 3 punti alti che lavoro e chiudo insieme, come il mio modulo di bordo margine. Ora, come potete notare, ho gettato le basi per fare gli altri aumenti. Quindi, utilizzerò questo punto, quest'altro punto e quest'altro punto per fare l'archetto a V dentro il quale lavorerò altri 3 fiorellini. Quindi, da 1 a 2 a 3 e si va avanti di seguito così. Non vorrei essere ripetitiva, neanche noiosa, quindi faccio questa seconda parte di lavoro e poi lascio a voi la possibilità di realizzarlo fino all'altezza che desiderate raggiungere. Questo è il bordo margine, 1, 2, 3 catenelle, sul primo punto alto un archetto a V, con un punto alto, 3 catenelle, un punto alto nella stessa base. 1, 2, 3 catenelle, qui dove ho fatto il punto basso precedente, io faccio un punto alto. 1, 2, 3 catenelle, e qui dove ho lavorato il punto alto, faccio un archetto a V, un punto alto, 3 catenelle e un punto alto. 1, 2, 3 catenelle, qui nel punto alto sottostante, farò un punto alto, dove ho fatto il punto basso sottostante, un punto alto. 1, 2, 3 catenelle, nel punto alto a fianco un archetto a V, 1, 2, 3 catenelle, e poi un altro punto alto nella stessa base. 1, 2, 3 catenelle, e raggiungo il bordo margine dove lavoro 3 punti alti e 2 catenelle. Quindi mi ritrovo praticamente con questo lavoro dove ho un archetto che lavorerò il terzo aumento, quindi un primo fiore, un secondo fiore e un terzo fiore. Io farò così altri tre aumenti e lascio a voi la possibilità per non trattenermi, dilungarmi, essere noiosa, di proseguire e di andare avanti nel lavoro come meglio desiderate raggiungere la vostra altezza. Avete ben capito come è, seguendo i miei movimenti, la possibilità di fare gli aumenti con questi archetti alternati, e si va avanti di seguito così. Potete notare che da qui, da questo fiorellino, ne ho fatto due, poi ne ho fatto tre, poi ne ho fatto uno, due, tre, quattro, e si va su avanti così come desideriamo fare fino all'altezza che vorremmo raggiungere. Spero di essere stata semplice, di avervi dato uno spunto lavorativo in più e di avervi fatto cosa gradita nel mostrarvi anche questo nuovo progetto lavorativo. Io vi ringrazio per la compagnia che mi avete fatto, è importante per me, credetemi, per l'attenzione che mi rivolgete sempre, molto importante anche quella. E siccome anche questa volta abbiamo lavorato all'uncinetto, non mi resta che salutarvi come il mio solito, en crochet, al prossimo tutorial, con cose belle, nuove, da condividere insieme, lavorare insieme. Ciao, grazie di cuore, grazie di tutto, salve, al prossimo tutorial, en crochet, ciao!